hai visto? io te l'avevo detto che c'era qualcuno è mia figlia, si è mia figlia pronto polizia? ma non è giusto Giorgia Vanessa? Vanessa sei qua giù? Vanessa? che c'è babbo salvo? Vanessa allora devi nascondere perché mamma Cinzia ha visto le telecamere di servizio di qua giù e ha visto un ladro anche se so che sei tu però lei non lo sa quindi per favore al momento nascondeli quando è il momento ti veniamo a chiamare va bene? ti raccomando va bene, va bene, va bene, mi nascondo Cinzia, senti allora, sono sceso giù ho controllato dappertutto ma del ladro non c'è traccia è probabile che sia scappato dalla porta del garage meno male, almeno si può stare un po' tranquille ma almeno l'hai richiusa la porta, vero? sì, sì, ho chiuso tutto non ti preoccupare non entrerà mai più nessuno va bene? io babbo invece vado giù a giocare con Vanessa perché poverina è sempre da sola ok Giorgia, però ti raccomando se senti la mamma nascondetevi subito va bene? sì, sì, va bene babbo non ti preoccupare Vanessa? Vanessa, Vanessa, sono io Vanessa, Vanessa, sono io Vanessa è di nuovo qui questa mocciosa sì, sorellina, sono qui giochiamo insieme? sì, certo vieni Giorgia leggiamo questo libro, ti va? sì sugli alberi sbocciano nuvole di petali rosa e sui prati cresce l'erbetta tenera pronta salvo Giorgia venite che dobbiamo fare la spesa che non abbiamo niente in casa ah, sì, la spesa dobbiamo venire anche Giorgia aspetta qui che vado a chiamare Giorgia che se non sbaglio è giù a giocare aspetta qui Giorgia eh, Vanessa Giorgia muoviti alzati che dobbiamo andare via te Vanessa ti raccomando eh, se hai bisogno di andare in bagno mangiare eh, sali su mentre noi non ci siamo eh, rimetti tutto a posto e poi ritorna giù nasconditi va bene? va bene babbo salvo ah, è di mente capo eh, Vanessa se vai su non, non avere paura perché la mamma ha fatto tutto l'allestimento di Halloween wow, l'allestimento di Halloween voglio proprio vederlo dai, andiamo sì, arrivo Giorgia, chiudi la porta sì ragazzi speriamo bene continuate a seguirci e lasciate un bel pollicione sì finalmente se ne sono andati finalmente se ne sono andati non le sopportavo proprio più soprattutto quella mocciosa appiccicosissima sono tre giorni che sono chiusa in questa casa e non sono ancora riuscita a prendere niente ma adesso potrò finalmente divertirmi un pochino ma questo è il tablet di quella bambina antipaticissima beh, adesso è mio ma questo ha delle rifiniture d'oro sarà sicuramente prezioso beh, questo è mio beh, questo è mio arte moderna sarà sicuramente di valore viene con me niente di interessante niente di interessante beh, questa è il bagno questo viene con me oh, mannaggia sono tornati devo nascondermi dai Giorgia muoviti oh, ma non mi aspettate nessuno che prenda la busta tutto io non devo prendere buste mi aiutate? salvò allora io vado a cucinare i bastoncini di pesce ok? io invece vado a vedere i nostri video sul tablet ciao ok e io andrò a lavorare ciao ho ora fatto i bastoncini di pesce nella friggitrice ad aria che vengono spettacolari ma ma non c'è la friggitrice aria eppure ero sicura che era qui è sempre stata qui vicino alla macchinetta del caffè salvo ma sono sicura che l'ho lasciato qui prima di andare a fare la spesa ho capito che è stata a toccarmelo è stato il babbo babbo mi sono fermato un attimo per lavorare cosa volete? babbo babbo dimmi mi ha sparito il tablet per caso me l'hai toccato te Giorgia io che cosa me ne faccio del tuo tablet? no, in ogni caso non te l'ho toccato io l'ho chiesto a te perché te me lo sequresti sempre il tablet sei sicuro che non me l'hai messo da qualche parte? Giorgia se te l'avessi sequestrato me lo ricorderei ma non te l'ho toccato io questo tablet salvo e a me mi è scomparsa la frigitrice ad aria mi dici te come faccio a cucinare i bastoncini di pesce? e sono sicura che me l'hai spostata te guarda oh ma può essere che mi date sempre la colpa a me ma io secondo te ma che me ne faccio della frigitrice ad aria e perché la dovrei avuto spostare che se tu appoli la cucina io non ho toccato né tablet né frigitrice ad aria quindi non sono stato io posso lavorare adesso? mi sono rotto ogni volta che succede una cosa in questa casa ve la prendete sempre scusa ma qui non c'era il gorilla? dove è il gorilla? che è costato un sacco di soldi allora qualcuno ha toccato le nostre cose salvo ma non è che è tornato il ladro? controlla se ci sono i soldi i soldi? giusto i soldi eh Giorgia ma non è che è stata Vanessa? ma no babbo non può essere mia sorella cioè tua figlia non farebbe mai queste cose giusto però aspetta che controlliamo se ci sono i soldi ragazzi hanno rubato tutti i soldi Cinzia 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 hanno rubato tutti i soldi no salvo bisogna per forza guardare le telecamere di sorveglianza perché secondo me è stato il ladro dell'altro giorno te l'ho detto l'avevo visto telecamere no no ma che telecamere no non c'è bisogno come non c'è bisogno sì che c'è bisogno Giorgia e sono sparite un sacco di ocase e tanti soldi dai andiamo a controllare ma perché Giorgia non sta scendendo a giocare? cosa sta succedendo? ragazzi se anche voi come me pensate che ci sia un ladro in casa lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale salvo Giorgia dai venite ora guardiamo se veramente c'è qualcuno in casa hai visto? io te l'avevo detto che c'era qualcuno assomiglia a quel personaggio che ho visto l'altro giorno in garage c'è un ladro visto? eh? visto? sì ho visto eh Giorgia no guardate guardate si vede la faccia ma questa qui però assomiglia alla ragazza che era in casa l'altro giorno a fare recupero a Giorgia sì sì sei sicura? sono sicurissima no non è lei ma no mamma non è lei è impossibile scusa ma come non è lei? guarda è proprio uguale me la ricordo bene è stata qui tutto il giorno no no Giorgia a questo punto è il momento di dirlo alla mamma che cosa mi dovete dire? che cosa mi nascondete voi due? Cinzia siediti che ti dobbiamo dare una notizia siediti sono già seduta salvo cosa mi dovete dire? eh Cinzia allora stai tranquilla ora ti spiego tutto allora l'insegnante che è venuta l'altro giorno a casa nostra in realtà non era l'insegnante ma era come come te lo dico è mia figlia sì è mia figlia dice che è mia figlia che era da tanto che mi cercava però avendo paura di dirtelo l'abbiamo nascosta in casa per ritornare poi le parole per darti questa notizia e comunque in poche parole non è l'insegnante ma è mia figlia cioè la sorella di Giorgia hm tua figlia secondo me invece voi due siete due babbei non avete visto che non assomiglia né a te salvo e neanche un pochino a Giorgia e non avete pensato che poteva essere una ladra che con una scusa qualunque si è intrufolata in casa per rubare hm ma non è giusto Giorgia Giorgia fai Giorgina vieni qua alzati vieni qua metti seduto io babbo in questi giorni mi sono affezionata erano tantissimo tempo che volevo una sorella era bello quando mi dispiace guarda anch'io mi c'era un pochino affezionata in questi giorni vieni qua Giorgia amore mio mi dispiace tanto che ti abbia fatto credere di essere tua sorella lo so quanto ci tieni però queste cose accadono nella vita mi dispiace amore io voglio una sorella salvo bisogna risolvere questo problema in tutte le maniere senti ma secondo te è ancora in casa? si che è in casa è nascosta giù in garage ah per quello che eravate sempre giù comunque bisogna trovare una soluzione voi la dovete distrarre mantenere lì e io chiamo la polizia ok? ok allora vado subito in garage mamma vengo anche io ad aiutarti Vanessa sei qui senti ti dobbiamo dire una cosa ah finalmente vi rivedo eh Vanessa ti dobbiamo nascondere perché la mamma sta scendendo per controllare quindi vieni con me vieni vieni ti mettiamo qui dove lì l'altro giorno ok ti raccomando non dirò una parola giù 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 dentro qui dentro qui qui alla porta così ora mettite seduta sopra così non può scappare e aspettiamo la polizia ma cosa fate là fuori? perché sento dei rumori alla porta? non è che hanno scoperto qualcosa apritemi no non ti apriamo lo sai perché? perché ti abbiamo scoperto brutta bugiarda ti sei una ladra e tra un po' arriva anche la polizia quindi non ti facciamo uscire no mi hanno scoperto e ora come faccio a scappare da questa lavanderia? pronto polizia? sì salve buonasera sento abbiamo un ladro in casa sì un ladro è intrappolato sì fra quanto arrivate? dieci minuti perfetto dieci minuti ok grazie ragazzi dieci minuti e sono qui mamma cucciola Vanessa è chiusa nella lavanderia ok perfetto tra quando arriva la polizia? dieci minuti ho già telefonato ok ok perfetto ah senti hanno suonato sicuramente sono loro sono già qui andiamo buonasera buonasera gente dunque dov'è il ladro? eh signor agente dovrebbe essere giù in lavanderia giusto Giorgia? sì sì mamma non ti preoccupare chiusi la lavanderia ma il popolo sta bloccando la porta ok mi faccio a strada venga venga da questa parte seguite me seguite me oh sei arrivati oh ecco agente la latra è qui dentro ora sei spacciata è arrivato il poliziotto prego agente e qui dentro ma cosa fa? venga io non ho fatto niente guarda male la schiena ma le dico che non ho fatto niente non è vero bugiarda te facevi finta di essere la mia sorella e invece no sei una ladra se abbiamo visto alle telecamere adesso basta vieni con me in centrale ciao ciao Vanessa se sempre questo è il tuo vero nome ma lei non è Vanessa lei è Aurora è una ladra che va a rubare in tutte le case degli youtuber grazie che l'avete finalmente catturata bene adesso vieni con me in centrale ti chiederemo in prigione e butteremo via la chiave ragazzi come avete visto Vanessa che si era spacciata per mia figlia cioè sua sorella alla fine era un ladro che rubava a casa degli youtuber mamma io mi ero appassionata mi dispiace Giorgio mi dispiace veramente tanto guarda che tu abbia creduto che lei fosse tua sorella anche io Giorgio ci avevo creduto comunque forse è meglio così meglio non avere una sorella che una ladra in casa che va a rubare a casa degli youtuber ok amore mio dai facciamo così Giorgia magari dopo aver salutato i nostri amici usciamo e ti compro un regalino può andare meglio? ok niente ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale ma soprattutto che cosa devono fare Giorgia? ascoltare la nostra canzone avventure in famiglia è un'altra piccola raccomandazione se possiamo dare ai nostri amici non aprite mai la porta a persone che non conoscete e allora io Giorgia un pochino triste vi salutiamo con un grande wow si va a comprare il regalo? si andiamo però che costa tanto no che costa tanto noi siamo Salve Giorgia wow divido sempre una pioggia con mamma cinza guante ne combiniamo tra giochi e risalte sai che ci divertiamo wow 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 wow